Massima attenzione nel territorio fasanese dopo i sette casi di positività al covid-19 riscontrati negli ultimi tre giorni in tutta la provincia di Brindisi. Sei di questi casi infatti fanno riferimento a cittadini albanesi e residenti nella frazione di Montalbano. I nuovi contagiati, quattro segnalati nell'ultimo comunicato regionale del Brindisino, sono infatti tutti di nazionalità albanese e sono imparentati con le due connazionali risultate positive nei giorni scorsi. Le due donne di origine albanese residenti a Montalbano erano giunte nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi con sintomi riconducibili al coronavirus, tosse e febbre. È stato subito attivato il percorso covid e sono state isolate in un'area dedicata avviando subito la ricostruzione dei contatti come previsto dei protocolli. Proprio da questo controllo infatti sono emerse le altre quattro positività nell'ambito familiare delle donne, tutte di origine albanese. A confermare l'origine dei nuovi contagi in una nota anche il professor Pierluigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della regione Puglia, che spiega che casi registrati riguardano appunto cittadini stranieri in arrivo in Puglia, sottoposti a screening per i contatti stretti con altri casi. In ogni modo i dipartimenti di prevenzione dell'ASD sono al lavoro per stabilire le successive catene di contagio per evitare e propagarsi dell'infezione.